Sono Alessia, rappresento il panificio Madrigosas che è nato da poco a Dolmedo di due signore, Mariella e Maria Attalia. Usiamo prodotti sardi certificati come le nostre farine del gruppo Sardosole, sono coltivate e macinate in Sardegna. Il nostro pane è fatto con lievito madre ed è cotto nel forno a legna come i nostri dolci. Il nostro pane è questo, da noi viene chiamato pane russo, pane a modigadu e tunditu. Poi abbiamo i nostri dolci, cotti nel forno a legna, i vari tipi, dai biscotti ai bianchini, ricottelle, insomma un po' di tutto. E poi le due signore hanno creato un tipo di pane loro, praticamente è del pane tipo questo utilizzato per le zuppe, ed è pane tostato con olio e erbe aromatiche. E questo invece è lo stesso, soltanto che è fatto tipo patatina e si può mangiare liberamente come aperitivo oppure come patatina, come snack. Grazie per la visione! Grazie per la visione!